Ma andiamo a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo video, da come ovviamente avete potuto intuire dal video, parlerà di Pokémon Questo premetto che molto probabilmente sarà il primo e l'ultimo video con questo tema Poiché non è uno degli argomenti che mi ero prefissati per il canale Poiché non rientra in quei giochi che voglio portare avanti qui Poiché è molto lungo, possiede una trama e quindi non è così indicato Io quindi voglio parlarvi della cattura dei leggendari del Y Di Pokémon Y e X, di Pokémon X e Y Questo perché? Perché con questi due giochi mi sono riavvicinato a questa serie Che da un bel po' non consideravo più Come dopo la quarta generazione non ho più considerato E quindi mi sono piaciuti abbastanza e sebbene siano semplicissimi Ho apprezzato In questo video vi spiegherò come si catturano appunto i leggendari Con una tattica speciale riservata al nostro caro amico Mewtwo I primi comunque che si possono incontrare E meglio il primo che si può incontrare Si trova nel prelega e può essere a seconda della versione L'aquila milanista Iveltal E il cervo con delle corna grandi quanto la mia casa Xerneas Che può essere un lampadario Xerneas Ve lo mettete lì al contrario con qualche lucina che c'è già e illumina Abbiamo trovato un ruolo per Xerneas Comunque se avete scelto X ovviamente potrete catturare il mitico cervo Se avete scelto Y l'aquila Sono letteralmente semplicissimi da catturare Sono delle boiate assurde Non venite a dire che sono difficili No, fanno veramente schifo Da questo punto di vista Basta che li paralizziate O meglio ancora in questo caso che li addormentiate Poiché sono molto deboli appunto E portateli a vita rossa, vita gialla Così è mal che vi vada 5 Ultra Ball e sono vostri Invece Gli altri leggendari Che sono alla fine 3 Sono catturabili solo e soltanto nel post Lega Il primo nonché ultimo membro del trio da poco citato È Zygarde Che è un serpentone verde corto e brutto Assai brutto Che è possibile catturare nella grotta Climax Io ci ho messo onestamente Un'ora Un'ora a trovarlo Perché letteralmente mi stavo rompendo le palle a un certo punto Ho lanciato via il 3DS E l'ho acceso tre giorni dopo Quando avevo un momento libero E ho dovuto ricominciare praticamente a zero Da zero E quindi non è stato molto divertente Comunque arrivati da lui Le tattiche sono molteplici Io vi dirò onestamente quella che ho usato io Però per poter attuare questa tattica Doverete avere Dovrete Dovreste No dovete Per attuare questa tattica Dovete avere un Agirlash Che conosce Almeno la mostra Scudo Reale Allora Agirlash Lo mettete come primo Come primo Pokémon in campo E considerato che 3 delle sue 4 mosse Sono di tipo Di tipo fisico E solo una È di tipo Drago Ovvero poco efficace Cioè con Agirlash Siete a cavallo Poiché con Scudo Reale Lo investite totalmente E gliene fate anche 10 di fila Così riducete tantissimo il suo attacco E poi cambiate con un Pokémon tipo Eletro Adesso mi direte No Non puoi paralizzarlo Poiché è di tipo Terda E ciò invece è sbagliato Poiché lui usa la mossa Camuffamento Che lo fa diventare di tipo Roccia Penso O Roccia Drago O Rocce Basta Ma penso Rocce Basta E in questo modo Grazie alla mossa Tuononda È Già paralizzabile Quindi a questo punto A vita rossa È paralizzato Non è un grandissimo problema Catturarlo E anche qui O meglio Non conosco il suo tasso Da cattura Non conosco il suo tasso Di cattura Però comunque Non dovrebbe essere così Elevato Per nulla E quindi Lo prendete Senza nessuna difficoltà Gli ultimi Due Pokémon Sono originari Della regione di Kanto E quindi Sono molto più complicati Prima di tutti Vi spiegherò Come catturare Dove come catturare I tre uccelli leggendari Come Non hanno bisogno Di presentazioni Ma ve le faccio Lo stesso Il primo È il Tacchino precotto Moltres Poi C'è il piccione Rimasto intrappolato Tra due cavi della luce Zapdos E Articulo Anche lui È ovunque conosciuto Con il soprannome Di Articulo Che sono catturabili Secondo dello starter Che avete scelto Non so dirvi Quale dovrete Non so dire Quale starter È corrisposto A quale Leggendario Quindi Andate a tentativi E per poterlo catturare Dovrete Incontrarlo Almeno 10-12 volte Non mi ricordo bene Nell'erba Che può essere controllata Dal Pokédex La sua locazione Dopo aver fatto questo Visto che non potreste Non potrete fare assolutamente niente Poiché lui fugge Prima che voi possiate fare qualsiasi cosa Andate all'antro talassico All'antro talassico Sì Che si trova nella baia Di qualcosa Andatevelo a cercare Perché se no Io non ho voglia E L'ho catturato Onestamente Io non l'ho ancora catturato Però Da quanto mi ricordo Da Soul Server Che è stato l'ultimo gioco Che ho giocato Prima di questo E Sono difficili da catturare Però Non c'è una tattica precisa Poiché Se Zaptos Si mette un Pokémon Tipo Terra E lo si Prima Paralizza Con una mossa Tipo Erba Di tipo Paralizzante Oppure Non lo si paralizza affatto E Si Continua A Tirargli Ultrabola O meglio Ancora Scurbo La ripetizione Finché non cade Tra le vostre mani Se è molto Esortico Non Dovrete Andare Anche lì Con la tipica tattica Senza una strategia precisa Invece Quello per cui C'è una strategia Precisa O che Ho inventato io È Mewtwo Mewtwo Ho letto Che molti Anzi Mi hanno detto Molti Che hanno dovuto Usare la masterball Per prenderlo Perché dicevano Che era impossibile Da catturare Bene Io vi dirò Un modo Che vi permetterà Di non perdere Neanche un membro Del vostro team È appena caduto Un magnete Sulla mia sedia Cazzo Ah ok No Non l'avrei dovuto Registrare Comunque Per catturare Mewtwo Dovrete procurarvi In GTS E non è molto Oppure in un safari Ma è più probabile In GTS Uno Spiriton Basta che mettiate Uno Uno starter A livello 1 Di qualsiasi regione E Spiriton Ve lo fate subito Che permette Questo bellissimo Pokémon Di essere Invulnerabile Totalmente a Mewtwo Poiché Le due mosse Potentissime Che ha Sono Psichico E Forza Sfera Che unite al suo Talco speciale Sono devastanti Però sono Di tipo lotta Controbilanciato Dal tipo spettro Di Spiriton E di tipo Psico Controbilanciato Dal tipo buio E quindi siete Invulnerabili Da tutte le sue mosse Offensive A questo punto L'unica mossa Che potrebbe darvi Problemi È Ripresa Cosa fa Ripresa? Fa recuperare Al Pokémon Che la usa Metà vita E quindi Vi rompe Molto Le scatole Durante la cattura Condetto E considerato Che è un Pokémon Estremamente forte E quindi Voi cosa fate? A Spiriton Date il seguente Moveset 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 Le seguenti mosse Che sono Pallaombra Per attaccarlo Direttamente Congiura Per pumparvi Di molto L'attacco speciale Dispetto Che è il centro Della strategia E Un'ultima mossa scelta Io vi consiglio Furtivombra Che In combinazione Con il suo Con il suo Riflesso Gli farà veramente poco Ed è ottimo Per portarlo A vita rossissima A questo punto E quindi Un'ultima mossa In modo In modo da Pomparvi al massimo L'attacco speciale E dopo Con una palla ombre Dovreste aver ridotto Il povero Leggendario A vita rossa Oppure L'avete direttamente Ucciso E quindi Dovete riniziare La cattura Da zero E pomparvi di meno Congiura Con congiura E a questo punto Considerato Che a vita rossa Al 90% Utilizzerà Ripresa E quindi Voi cosa fate Utilizzate Dispetto Con dispetto Gli sottrarete Ben 4 pipì Che in combinazione Con pressione Di spiritom E come Sottrargli ben 6 pipì Ciò vuol dire Che può utilizzarlo Solo più Un'altra volta Se azzeccata Anche quella volta lì A usare Dispetto Fate sua attenzione A non togliere pipì Alle altre mosse Perché sennò Si suicida Dopo poco tempo Con scontro E quindi Ridotto A vita rossa E Non penso Paralizzato Perché è veramente Difficile paralizzarlo Perché vi uccide O lo fate con un pokemon Velocissimo Oppure ve lo uccide Prima che possiate fare Qualsiasi cosa Lo Tempestate Di ultra ball O scuro ball E prima o poi Vi entrerà A me è entrata La prima Però Non È È totalmente A caso In soul Silver Ce ne ho messe 50 Ultra ball L'ho catturato Con l'ultima Quindi è tutto Totalmente A caso Spero che questo video Ti sia servito Ti sia piaciuto Ti abbia permesso Di finire Questo gioco E quindi Spero di rivederti Questo Se ti è piaciuto Mesti mi piace E Se ti piacciono Anche gli altri video Che ovviamente Ti invito a guardare Iscriviti Ciao